Ciao, quella che sta per vedere è una bellissima conversazione con Davide Corradini, founder di Ristobox. Ristobox è una startup italiana in fase di seed più o meno che imparerete a conoscere in questo video e che forse avete anche già conosciuto nell'ultimo episodio presente sul canale di Mr. Rip dello Shark Tank in cui abbiamo valutato la sua azienda. Mi ha fatto tantissimo piacere parlare con lui. Il mio obiettivo in questo video era quello di simulare un po' una chiacchierata informale che un consulente potrebbe avere con un potenziale cliente. Quindi approfondire meglio un po' la situazione in cui si trova Ristobox cercare di identificare potenziali problemi e spero anche potenziali soluzioni per la crescita del loro business. Ovviamente farlo registrato rende il tutto molto più strano, molto più difficile però spero che questo contenuto sia di valore. Mi rendo conto che tanto tempo viene anche speso nel cercare di capire meglio il business con cui stiamo parlando ma questa è anche una componente fondamentale se vogliamo assicurarci di dare dei consigli effettivamente utili altrimenti siamo semplicemente leggendo alcune best practice da una lista che non portano nessun valore. Quindi spero veramente che questo primo episodio pilota vi piaccia ma soprattutto sono curioso di sapere i vostri feedback. Cosa vorreste vedere? Vorreste vedere interviste con tanti altri founder? O magari preferireste tante interviste sempre con le stesse persone in modo da vedere anche il progresso che si viene a creare? Magari pensate che mi sarei potuto soffermare più su altri aspetti che vi sono poco chiari? Questo è il feedback che sto cercando. Ho già registrato un'altra puntata con un'altra azienda però tutti i futuri episodi verranno registrati dopo la pubblicazione di questo video e quindi il vostro input sarà fondamentale anche per costruire quello che sarà potenzialmente questo format o magari anche per distruggerlo, chi lo sa. Comunque adesso la smetto di annoiarvi, prendete i popcorn, io vi lascio questa chiacchierata. Ciao ciao! Ciao a tutti, benvenuti in questa prima intervista in cui andiamo a parlare con founder nell'ecosistema italiano. Oggi sono veramente contento di avere qui Davide Corradini che forse avrete visto in un episodio del Twitch Tank che abbiamo fatto con Mr. Rip. La sua startup si chiama Ristobox, è nata nel 2022 in fase di Preseed e lascio a lui dirci un pochettino di cosa si occupa Ristobox in poche parole per capire cosa fa. L'obiettivo di oggi comunque è quello di farci un po' una chiacchierata, capire come sta andando il suo business, quali sono le idee, vedere se c'è qualcosa su cui può aver bisogno di una mano o se c'è qualche idea che possiamo dipattere insieme. Buonasera a tutti, grazie Tomato intanto per l'opportunità e sono felicissimo di essere il primo ad aprire questo nuovo format che ritengo super interessante. Bene bene, quindi voi cosa fate esattamente? Qual è il vostro prodotto? Allora, Ristobox è una startup che nasce a Roma, viene costituita nel 2021, nasce ufficialmente ed inizia ad operare nel 2022. Abbiamo costituito una piattaforma di meal kit, quindi ambito food tech, che permette ai ristoranti di far arrivare i loro piatti in tutta Italia. Sostanzialmente sulla nostra piattaforma le persone non acquistano di prodotti infiniti che gli arrivano a casa in 5 minuti come avviene con le classiche piattaforme di delivery, ma acquistano delle box. Queste box vengono recapitate a casa della persona in 24 ore in tutta Italia, indipendentemente dalla distanza che c'è tra loro e il ristorante. In questa box le persone ritrovano esattamente i piatti del ristorante che hanno ordinato in versione scomposta, soltanto da terminare a casa. La versione scomposta non significa che ci sono degli ingredienti dosati e pesati, ma ci sono dei prodotti già lavorati dal ristorante. Quindi a casa le persone hanno a disposizione un QR code che inquadrano con il cellulare, in cui vedono direttamente lo chef del ristorante che gli spiega come terminare quelle preparazioni che lui ha già iniziato nel suo ristorante, così che possano gustare direttamente a casa loro i loro piatti in maniera veloce. Ok, ok, perfetto. Immagino che la domanda che vi facciano più spesso all'inizio è quindi qual è la differenza con HelloFresh, no? Sì, diciamo la differenza sta sicuramente nelle tipologie di proposte. Le nostre sono proposte che vengono direttamente dai ristoranti, possono trattarsi di piatti conosciuti a livello nazionale, perché magari firmati dallo chef noto possono trattarsi di cucine molto molto particolari che è difficilissimo da ritrovare in giro e soprattutto proprio per l'experience che si vive a casa. Infatti HelloFresh è molto comoda perché ti permette di sostituire un po' l'esigenza di dover andare a fare la spesa a casa durante la settimana. Noi ti permettiamo di fare delle vere e proprie esperienze culinarie, quindi quello che vivi, l'esperienza in sé, è molto differente tra le due. Certo. Quindi non è più la convenienza di non dover andarsi a comprare il pollo e pensare a una ricetta per mercoledì sera, ma c'è il mio anniversario che voglio festeggiare a casa e mi faccio spedire un piatto più elegante. Quello, o ad esempio, non so, mi imbatto, sto su TikTok o su un altro di tanti social, mi imbatto in quel particolare ristorante e dico cavolo, voglio andare a mangiarci sabato, mi vado a vedere dove si trova, sta magari dall'altra parte d'Italia e dico no, è impossibile. In questo modo mi ricreo l'esperienza a casa oppure torno a casa, vengo a Roma in vacanza, e dico vengo perché noi siamo di Roma e magari dico ho assaggiato quel particolare piatto, quel particolare prodotto e voglio un po', quando una volta torno a casa, voglio parlare di assaggiare anche ai miei amici e grazie a Aristobox ho la possibilità di ricevere esattamente quel prodotto a casa. Certo, certo. E per quanto riguarda invece la parte di numeri, quindi, immagino, essendo un'esperienza, puntiate magari anche su un carrello medio più alto rispetto a quello di servizi magari tipo Ello Fresh, quindi dicci un po' su quello che è magari il carrello medio, il CLTV che avete visto fino adesso per gli utenti, quanti clienti avete avuto più o meno fino ad ora per farci un'idea dei numeri. Allora, oggi il carrello medio si sta alzando molto, da quando abbiamo iniziato a fare ADV, perché noi abbiamo operato sostanzialmente per tutto il 2022 e il 2023, buona parte del 2023 in maniera organica, quindi ovviamente anche i numeri che riuscivamo a generare non erano così elevati, però avevamo una buona risposta. Adesso il carrello medio sta intorno ai 56 euro, quindi molto più elevato rispetto a un classico delivery, e come clienti ad oggi che hanno provato effettivamente la nostra piattaforma, c'è le nostre box, stiamo intorno ai 600 clienti sparsi in tutta Italia, e il 35-37% di questi ha fatto più di un ordine, quindi nel corso dell'anno ha acquistato più di una volta. Ok. Questo secondo noi è un buon dato. Sì, 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 sicuramente è promettente. Avete anche qualche altro dato, tipo MPS o simili, o avete altri modi di misurare la soddisfazione dei clienti? Allora, noi banalmente, oggi comunque non avendoci un numero chissà quale elevato, comunque siamo intorno ai 600 clienti, quindi riusciamo ancora a farlo, banalmente misuriamo la soddisfazione dei nostri clienti, chiedendoglielo direttamente. Quindi utilizziamo molto WhatsApp Business, e quindi contattiamo, abbiamo un sistema ovviamente in automatico che ci permette di contattare i nostri clienti durante tutta la fase di acquisto, soprattutto nella fase post-consumazione dei prodotti, e in quel modo possiamo misurare e avere feedback diretti dai clienti, e ad oggi non per dare una metrica elevata o così, ma comunque il 95% delle persone che hanno provato le nostre box ne sono rimaste soddisfatte, e questo poi si riscontra anche, ad esempio, nelle recensioni. Abbiamo 250-220 recensioni, considerando che abbiamo fatto 1000 box, sono comunque un numero elevato. Sì, 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 no, diciamo, quello che mi sembra interessante è usare WhatsApp all'inizio, è ottimo perché potete ricevere anche feedback più qualitativi. lo usate anche per fare remarketing WhatsApp oppure solo per... Sì, stiamo iniziando ora ad utilizzarlo anche per fare remarketing, perché abbiamo molti più iscritti sulla newsletter, però abbiamo fatto dei test in questi mesi con WhatsApp, e comunque la qualità delle lead, il tasso di apertura dei messaggi rispetto al tasso di apertura delle mail, e poi di conversioni... Tipo 5 volte quasi. Esatto, sì, sì, sono numeri del genere, quindi lo stiamo iniziando ad utilizzare, e penso in futuro lo utilizzeremo sempre di più, anche forse al discalito delle newsletter. Sì, perché forse, diciamo, una cosa che mi viene in mente è, visto una soddisfazione così elevata, e il tipo di prodotto si potrebbe spingere anche di più rispetto a questo 35% di persone che comprano una seconda volta. La distribuzione di queste persone che comprano com'è? Cioè, avete delle... Chi fa, diciamo, giochi da telefono, le chiamerebbe balene, che magari comprano una volta a settimana, o una volta al mese, qual è la frequenza massima che avete visto? Allora, ci sono un, diciamo, un 10% di clienti, 10-15%, cioè, tra, diciamo, dal totale dei clienti ricorrenti, parliamo, eh, che acquistano anche una volta al mese, e ci sono persone appassionate che una volta che entrano in contatto con noi, magari entrano perché conoscono quel ristorante, ma poi si sbizzarriscono e organizzano cene con amici, eccetera, quindi iniziano a provare ogni mese una box differente, e questo ci sono. Diciamo, si può spingere ancora di più sul riacquisto, sulla fidelizzazione, infatti anche per questo stiamo lavorando un po' su delle anche strategie a livello di sito, ad esempio, campagne di fidelizzazione, appunti, le possiamo chiamare in maniera poco accademica, forse, che permettono però alle persone di fidelizzarsi, continuare ad acquistare da noi. Ok. Che informazioni avete dai clienti? cioè a parte chiaramente l'ordine che fanno, sapete altro tipo il tipo di cucina che apprezzano, se sono vegani, se queste informazioni le prendete? Allora, le prendiamo, diciamo le tiriamo fuori un po' dagli ordini, nel senso da quali sono i ristoranti che funzionano di più, quindi le tipologie di cucine. Per esempio, adesso abbiamo inserito un ristorante di cucina vegana, e stiamo avendo buoni rispontri, non l'abbiamo avuto, quindi in passato non so dirti qual era, cioè, com'era la domanda da questo punto di vista, però oggi vedo che comunque le persone sono molto interessate, non solo dagli acquisti, ma anche dalle persone che ci scrivono in chat, ad esempio, o che ci mandano email per sapere informazioni, quindi la cucina vegana sta, cioè, piace, però tra le cucine più amate sicuramente dai nostri clienti sono le cucine etniche, quindi il cinese, il giapponese, il messicano, le empanadas argentine, sono veramente molto, cioè, le cucine etniche piacciono, piacciono veramente tante, tanto a chiunque, cioè, poi magari possiamo immaginarci come fascia d'età di chi acquista queste box, soprattutto quelle etniche, magari persone della nostra età, ragazzi, mentre sul nostro sito sono proprio le persone più adulte che amano sperimentare questo genere di cucina e scoprirli, perché molte volte il feedback che ci dicono sono persone che non avevano mai assaggiato quel genere di cucina e l'hanno assaggiata grazie a noi e ne sono rimaste innamorate, cioè, si innamorano proprio. Sì, sì, beh, diciamo che persone che ordinano una volta al mese cominciano a diventare quasi quasi B2B a livello di dimensioni, perché se riuscite a trovare quella coppia o quella coppia che magari porta anche gli amici a cena, quindi si duplica anche il carrello medio e poi vi ordina una volta al mese, ha anche senso cominciare a mandargli i pacchi per il compleanno, scrivergli, ma che ristorante vuoi, te lo te lo bombardiamo noi. Ma sì, sì, infatti nel piccolo lo stiamo cercando di fare, cioè nel senso a Natale ai clienti più ricorrenti, per esempio, non gli abbiamo mandato la classica email, ma gli abbiamo mandato proprio una lettera, cioè, scritta da noi a mano, da me in mano, perché siamo i due fondatori della staff app, firmata da noi con gli auguri e un codice a sconto, cioè cose molto personali che però gli fanno anche affezionare di più alla nostra realtà. Sì, quello che mi viene in mente è anche magari per fare una sorta di remarketing in futuro, un po' l'equivalente di quello che nei ristoranti è, oddio, come si chiama? Amuse juice, quel piattino quando vai dagli stellati che ti danno che non è incluso nel menu, però costa poco ed è un po' un gioco, pensare a una cosa simile del tipo ti mandiamo questa questa busta a casa che è qualcosa di semplice da fare per ricordarti l'esperienza del cucinare insieme potrebbe essere. Esatto, esatto, infatti lì la cosa che ci frena sta un po' nel costo di spedizioni, cioè nel senso quello però aumentando già stiamo aumentando i volumi sicuramente possiamo abbattere quel costo e quindi a quel punto possiamo sicuramente intraprendere anche strategie da quel punto di vista. A proposito di costo di spedizione quindi quali sono i vostri i vostri margini considerato anche la feed ristorante che immagino sia la percentuale più alta di costo? Allora diciamo noi la vendita viene fatta direttamente il modello funziona come un classico delivery quindi la vendita viene fatta direttamente dal ristorante noi tratteniamo una feed quindi la nostra feed oggi sta intorno al 20% più IVA e su questa poi abbiamo un ricarico inoltre sui packaging quindi il nostro modello si compone anche di vendita diretta di packaging al ristorante per poter operare e non abbiamo costi di spedizione perché il costo di spedizione è a carico del cliente finale che acquista la box quindi da quel punto di vista non abbiamo costi però ovviamente diminuendo il costo di spedizione al cliente lo incentiviamo maggiormente ad acquistare Sì avete due cose che mi vengono in mente il far acquistare le box per la delivery al ristorante è un impedimento quando dovete fare un boarding di nuovi ristoranti è una è un'obiezione che spesso viene fuori oppure non gli interessa vedono il potenziale Allora in realtà no non gli interessa più che altro perché uno loro vedono il potenziale principalmente quando ci dicono di sì quindi sono interessati a quello e poi noi non gli chiediamo un pagamento anticipato di queste scatole comunque quando un costo è basso cioè proporzionalmente rispetto allo scontrino medio che poi hanno sulla nostra piattaforma il costo di un pagamento è molto accessibile quindi non hanno un pagamento anticipato quindi le tratteniamo dall'ordine a fine mese tra virgolette anche se ne accorgo quindi quello no infatti immaginavo che il costo fosse basso per quello mi sembrava strano anche proprio l'idea di farglielo pagare però ci sta il fatto di farglielo pagare è perché comunque noi riusciamo lì ad avere un margine nonostante sia comunque basso è basso perché comunque non riusciamo ad acquistare queste confezioni in quantità e quindi riusciamo a scalare il prezzo e ovviamente il ristorante conviene rispetto ai prezzi che si troverebbero andandosi a rifornire sul mercato ma anche alle quantità perché magari all'inizio soprattutto i volumi che generano un ristorante a meno che non è un ristorante molto molto noto non sono volumi altissimi e quindi magari mettersi dentro un pallet di scatole diventa impegnativo e magari che ne forniamo 20 alla volta è molto più accessibile come cosa certo e invece per quanto riguarda il costo di delivery avete visto se se magari non ha più senso integrare il costo della delivery nel prezzo della box avete fatto dei test immagino i volumi non siano abbastanza alti per avere risultati statisticamente rilevanti allora diciamo che abbiamo in realtà abbiamo provato a fare dei test mettendo alcune box ad esempio in spedizione gratuita facendo vedere come cambiava un po' da questo punto di vista e sorprendentemente in realtà non ci hanno portato chissà quale risultato riscontro quindi no non c'è stiamo ragionando cioè io personalmente ho sempre un po' il dubbio se mettiamo il costo all'interno della box se può cambiare o meno però ad oggi non abbiamo ancora fatto un test per e per no ma può aver senso che non abbia un impatto alla fine ogni business è diverso e alla fine pensandoci quando sei su Uber Eats quando sei su Bolt o Just Eat il costo di spedizione e lo paghi quindi magari è più l'effetto positivo di vedere il prezzo della box più basso che non l'effetto di dire ah ok ho la deriva di gratis quello che potete fare è il solito giochetto del capire qual è il threshold giusto dove cominciare a inserire la deriva di gratuita magari sì lo stiamo cioè l'abbiamo testato per esempio noi comunque avendoci uno scontrino abbastanza alto non ha senso metterla ad esempio a 50 euro ma l'abbiamo messa ad esempio per un periodo soprattutto sotto Natale intorno agli 80 euro quindi le persone acquistavano ad esempio anche due box così abbiamo visto che comunque ha incentivato cioè adesso l'abbiamo tolto perché abbiamo dei problemi cioè proprio sul sito materialmente a farlo però l'abbiamo testato ed effettivamente è una cosa del genere funziona sì di solito lo metti un po' sopra il prezzo mediano degli ordini e quello ti aiuta a aumentare la quantità spedita esatto diciamo noi l'abbiamo messo anche abbastanza al di sopra perché poi con uno scontrino di 56 l'abbiamo messo ad 84 quindi è anche abbastanza sopra però nonostante questo vedevamo che comunque le persone ad esempio a quel punto acquistavano due box uno per una settimana uno per la settimana dopo quindi possono schedulare quando ricevere la box anche sì certo sul nostro video le persone scelgono direttamente loro quando non ricevere ma far partire la box considerando che da quel momento passeranno 24 ore per riceverla a casa ah carino e quindi immagino che abbiate già pensato anche a fare una sorta di abbonamento o cosa ricorrente sì assolutamente cioè ci spaventa un po' il fatto dell'abbonamento perché con chiunque ne parliamo ci dice comunque almeno in Italia non funziona molto l'abbonamento sui servizi relativi al food però vorremmo in realtà testarlo anche questo quindi lo stiamo sviluppando proprio in queste settimane sì diciamo la problematica che vedo lato prodotto è immagino le persone non vogliono provare sempre lo stesso piatto e magari si scocciano anche a programmare già tutti queste esperienze che faranno da qui ai prossimi sei mesi però gli puoi dire guarda se ti compri sei delivery tutte quante insieme poi dopo le schedule come quando vuoi però almeno voi avete un po' di sicurezza sul numero di vendite che farete avete un po' di cash flow che entra che non fa mai male no no esatto ma poi comunque avendo visto quanti sono comunque gli acquisti che fanno mediamente ogni anno l'idea era comunque quello di fare ad esempio due tipologie di abbonamento vogliamo fare un abbonamento stile Amazon Prime quindi ti do la consegna gratuita paghi 40 euro e butto lì la cifra 40 euro all'anno scusami e hai spedizioni gratuite e poi una tipologia di abbonamento differente sulle box vera e propria in cui però decidiamo noi in base ai due gusti che tu ci hai espresso che box mandarti ogni mese comunicando di prima la box ovviamente anche il giorno in cui ti verrà spedita quindi vogliamo differenziare la cosa in queste due tipologie di abbonamenti da una parte perché abbiamo visto che comunque le persone tendono a provare cose diverse quindi non avrebbe senso magari proporgli sempre la stessa tipologia di cucina o comunque lo stesso piatto cioè lo stesso ristorante magari con piatti differenti ma preferiscono variare dall'altra perché alcuni hanno anche espresso per esempio che acquisterebbero più spesso se il costo di spedizione fosse minore e quindi magari in questo modo si camuffa un po' la cosa sì guarda come esempio penso Uber One sia la cosa più interessante penso sia anche in Italia ormai quindi loro sembrano puntarci molto probabilmente hanno visto un ottimo aumento di LTV con le persone che fanno l'abbonamento e funziona esattamente in questo modo cioè se hai Uber One non paghi le spedizioni per Uber Eats per Uber forse è uno sconto quindi quello può essere un buon esempio la box è da capire quanto le persone vogliono effettivamente decidere cosa mangiare però voi usate Whatsapp che secondo me è fortissimo da questo punto di vista perché appunto magari mandate un messaggio Whatsapp e dire questo è il piatto che avevamo in mente per te se lo vuoi cambiare magari mettete il bottone che permette di fare il cambio e poi se la gestiscono loro esatto assolutamente l'idea era quella poi in futuro l'idea è anche quella di strutturare abbonamenti divisi per le differenti tipologie di cucina cucina etnica fa un abbonamento specifico cucina regionali ne fai un'altra street food ne fai un'altra e così via sì l'unico pericolo che vedo lì poi è di complicare l'offerta diciamo quello è sempre un equilibrio che bisogna bilanciare però insomma si tratta di sperimentare poi troverete la soluzione migliore ecco il mio consiglio che mi sento di dare appena vedete il modello che funziona di più non abbiate anche troppa paura a rimuovere tutto il resto cioè poi a semplificare un po' perché magari c'è quel 10% di utenti che ordina un certo tipo di abbonamento ma il lavoro logistico che c'è dietro di mantenimento non vale lo sforzo e tanto vale concentrarsi sulla proposition che funziona poi specie nel food e con il delivery ho visto che quello fa molto la differenza togliere quello che non è essenziale per concentrarsi sul resto sì sì questo ma anche sulle tipologie di box che abbiamo messo cioè adesso stiamo capendo quello che funziona e stiamo togliendo quello che non funziona eh certo sì a livello di acquisizione di ristoranti quindi è proprio field business development andate lì di persona fate voi il pitch come come sono allora inizio allora sì non facciamo da questo punto di vista campagne di acquisizione cioè campagne di ADV per acquisire ristoranti ma andiamo noi cioè di persona tra virgolette e ci facciamo cioè faccio questo è il lavoro che faccio io faccio un'analisi dei ristoranti che possono essere in target a seconda di cosa stiamo cercando se ci interessa una particolare tipologia di cucina quindi vado a vedermi in base alle guide di settore agli articoli anche ai social oggi comunque è un argomento più importante secondo me e quali sono i ristoranti migliori e più apprezzati in giro per l'Italia a quel punto cerchiamo di un contatto con questi ristoranti perché non è sempre semplice soprattutto con i ristoranti un po' più strutturati trovare l'aggancio giusto può riedere anche abbastanza tempo e poi una volta che troviamo però l'aggancio giusto se il ristorante è interessato alla nostra proposta allora a quel punto andiamo personalmente organizziamo una video call per presentare tutto il progetto spiegargli effettivamente come funziona proporgli di collaborare perché collaborare con noi non ha più costo per i ristoranti e da lì poi inizia tutta tutta l'avventura ma riuscite a far fare marketing ai ristoranti per il vostro prodotto allora inizialmente è stato abbastanza difficile perché comunque non eravamo nessuno non che oggi siamo qualcuno però avevamo appena iniziato e tutto quanto quindi gli ristoranti avevano anche un po' timore di farci pubblicità perché spaventati dal servizio oggi stiamo riuscendo oggi riusciamo sempre di più anche perché lo inseriamo direttamente nel contratto cioè se tu si dà una mano a farci marketing a comunicare ai tuoi clienti che si attiva anche con questo servizio è avere condizioni migliori rispetto magari a chi sta lì in modo passivo eh sì su quello secondo me si può spingere tanto speciale inizio perché comunque ristoranti che sono famosi sui social per dire avranno un CRM anche abbastanza importante se fanno un buon lavoro sanno quali sono i clienti loro che magari vengono da fuori e che prenotano perché eh sì lo so la maggior parte sono scappati di casa da quel punto di vista immagino però diciamo oggi il livello almeno quelli che ho visto io cioè anche i ristoranti di alto livello eh cioè parlo con cui stiamo parlando non sono digitalizzati a questo punto che hanno dei sistemi di CRM che gli permettono di capire quali sono lo vediamo magari noi dando analisi per esempio di social vediamo più queste cose ok ok allora sì allora bisognerà bisognerà lavorare più localmente fargli mettere il QR come si fa con TripAdvisor su una porta per dire vuoi ordinare anche quando sei fuori sì 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 esatto esatto infatti puntiamo molto anche su campagne di campagne marketing offline direttamente sui ristoranti quindi QR code ad esempio sui menu o QR code sulle porte vicino alla cassa robe di questo genere sì anche perché poi per un ristorante alla fine ok c'è un 20% di fee vostra sopra però non penso che sia molto diverso il margine di mandare uno di questi prodotti oppure fare il servizio completo al tavolo certo perdi tutta la parte di di alcol su cui spesso si margina tanto però ecco magari anche l'alcol potrebbe essere un'aggiunta interessante oppure ci sono problemi legali legati a quello è quello il problema sta nel verificare poi che le persone che accedono sul sito siano maggiorenni quindi dobbiamo andare a cioè ci sono modi perché poi ci sono siti ovviamente che quando acquisti si chiedono se sei maggiorenne quando acquisti prodotti alcolici quindi quello sicuramente ci si può lavorare sopra sì lì mi informerei bene perché secondo me mettere l'opzione mentre stai facendo il check out di dire questo è il vino che il sommelier consiglia con questo piatto può fare la differenza anche per i ristoranti a livello di 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 sì 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 no no assolutamente sia per noi che per i ristoranti può può essere un infatti è una di tante cose che su cui dobbiamo lavorare sicuramente può sicuramente aumentare ulteriormente il carrello medio bene bene entrando più nella mia nella mia area all'inizio hai detto che avete lavorato principalmente con marketing organico immagino per esempio con marketing all'interno dei ristoranti con cui collaboravate ma quali sono gli altri canali che funzionavano in organico e poi cosa avete attivato adesso con paid allora in organico utilizzavamo molto i canali social dei ristoranti in maniera indiretta quindi tramite i nostri social pubblicavamo post cioè comunque partiamo dal presupposto che noi produciamo tutto il materiale marketing che il ristorante utilizza anche sui suoi canali per pubblicizzarsi pubblicizzare il nostro servizio e gli udiamo tutto noi quindi inizialmente spingevamo molto con premi i ristoranti per farci sponsorizzare e far parlare di noi spingevamo molto con QR code flyer più cose possibili all'interno proprio dei punti vendita perché poi molto spesso i ristoranti con cui collaboriamo sono ristoranti frequentati da turisti e quindi era cioè funzionava abbastanza anche questo il passaparola degli chef dei ristoranti quindi non proprio dei profili instagram dei ristoranti ma proprio dei profili instagram ad esempio degli chef che erano riconosciuti figure importanti nel settore o comunque note e che quindi ci portavano traffico e poi abbiamo i nostri canali social con cui cercavamo di crescere pubblicando contenuti reel principalmente su instagram utilizzavamo instagram soprattutto adesso da quando abbiamo attivato le adv abbiamo fatto cioè inizialmente abbiamo attivato adv raccogliendo lead quindi raccoglievamo soltanto lead e non puntavamo alla conversione sul sito puntavamo poi a convertirli tramite newsletter quindi vitturavamo campagne cioè un 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 percorso sul crm che li portava poi ad acquistare quindi spingevamo molto da quel punto di vista e poi da quando invece abbiamo aumentato il budget sulle adv da fine ottobre più o meno adesso abbiamo attivato soltanto facebook business quindi pubblica cioè sponsorizzazioni su facebook instagram ok ogni tanto ti perdo ma penso che che mi senti sì ok quindi solo facebook instagram e però adesso fate vendita diretta sul vostro sito sì 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 oggi oltre alla raccolta di lead che comunque la facciamo sempre puntiamo proprio alla la convenzione per esempio a febbraio abbiamo avuto un costo di acquisizione cliente che stava intorno ai 15 euro ok a dicembre che è un mese particolare però per noi un mese importante stava intorno ai 10 euro considerando un budget speso su meta di 800 euro ok 800 sì ok quindi diciamo i numeri sono ancora sono ancora bassi però come mai continuate a fare anche la raccolta lead quindi porta dei risultati o sì perché comunque vediamo che le persone che si iscrivono portano cioè hanno dei risultati cioè nel senso poi convertono dopo un certo non so bene dirti dopo quanto perché poi è una cosa che se ne occupa mio fratello però lo continuiamo a fare perché da le analisi che facciamo comunque le persone gli raccontiamo un po' tutto il mondo di Ristobox quindi non solo parliamo di noi ma gli facciamo scoprire proprio nuovi ristoranti a quel punto poi si appassionano del progetto e iniziano cioè si trasformano in clienti abbiamo per esempio fatto anche una raccolta lead su non solo di lead quindi di mail ma anche di numeri di telefono e quindi poi andavamo a contattare direttamente tramite Whatsapp Business però da questo punto di vista funziona meglio almeno per il nostro caso le mail piuttosto che il Whatsapp forse il contatto se non vi conoscono forse Whatsapp è un po' più invasivo esatto mentre una volta che ci conoscono non ci sono problemi su Whatsapp però all'inizio abbiamo visto che comunque le persone che contattavamo su Whatsapp non convertivano ok ok comunque io qui mi sono fatto due calcoli al volo con 56 di carrello medio 35 di return rate assumendo solo un acquisto per persona sono 75 euro di customer value facciamo per l'anno col 20% di fee superiamo i 15 euro di costo d'acquisizione quindi qui si può spingere cosa vi frena diciamo il tutto sta nel trovare la strada giusta cioè dobbiamo dobbiamo spingere di più a livello di marketing però cioè partendo dal fatto che fino a 4 mesi fa stavamo a 0 già oggi stiamo facendo qualcosa e poi principalmente la cosa che ci frena è la liquidità cioè ovviamente dobbiamo stare attento a quello in realtà come la nostra che ancora sta autofinanziata non possiamo fare il passo troppo lungo sì 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 diciamo quello assolutamente è meglio non non bruciarci e poi il lavoro numero uno del CEO nelle start up è quello di non finire i soldi quindi capisco qui al momento come avete strutturato queste campagne sono solo sul vostro canale o riuscite anche a fare campagne in partnership con i ristoranti al momento sono solo sul nostro canale però l'idea cioè abbiamo non testato direttamente però abbiamo ci sono ristoranti che fanno campagne in partnership cioè che fanno loro stessi delle campagne che portano sul nostro sito e funzionano cioè nel senso i risultati che vediamo e le pagano loro o le pagate voi? le pagano loro le pagano direttamente loro ok però non possiamo fare questo discorso con tutti perché prima di tutto perché non tutti hanno una struttura per poter far campagne in maniera comunque seria e poi ovviamente il budget sempre il budget però adesso che abbiamo fatto questo test con un ristorante abbiamo comunque un case study che possiamo andare a rivenderci con gli altri ristoranti per incentivare a fare un discorso del genere sì poi non so se lo sapete ma potete anche proprio fare delle campagne in partnership con il ristorante sembra che le storie vengano da loro ok e il budget potete metterlo voi però viene fuori non lo sapevo in realtà sì quindi se avete dei ristoranti forti che magari non vogliono mettere budget o magari vogliono fare 50 e 50 lo potete fare dovete chiedere accesso alla pagina tra virgolette e si può si può fare un post in partnership da sponsorizzare questo è ottimo a sapersi assolutamente sì sì vediamo che comunque quando è direttamente il ristorante che parla le persone si guidano di più sì beh no infatti immagino e avete trovato dei moltiplicatori per l'acquisizione di ristoranti cioè penso ai vari social media agency che si occupano di ristoranti oppure siccome siete così selettivi non ha senso per voi allora ci abbiamo pensato cioè però no oggi almeno per il fatto che comunque siamo molto selettivi ha poco senso perché poi cioè è anche brutto magari contattare un'azenzia di cioè facciamo questo questo e questo stringiamo una partnership poi ci presentano i loro clienti e dirgli che non sono in target con noi ci rimane un po' anche anche brutto potrebbe vabbè quello dai è business insomma capire sì sì ma infatti hai perfettamente ragione è un problema nostro che ci facciamo queste paranoie però sì più che altro diciamo mi sembra di capire che comunque il tipo di ristoranti che avete può fare la differenza magari ristorante con i piatti particolari che colgono l'attenzione sto dando un'occhiata alle vostre ad su meta avete una buona varietà di creatività mi sembra di vedere insomma vedo 130 che avete lanciato nel giro di pochi mesi quindi la direzione mi sembra quella giusta quindi avere più materiale da condividere può essere utile no 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 assolutamente assolutamente se abbiamo ristoranti con un nome riusciamo a a fare cioè fanno la differenza abbiamo inserito Joe Bastianich a fine dicembre e comunque lui è il ristorante con cui abbiamo fatto anche delle adv cioè che ha fatto direttamente delle adv però comunque i risultati che raggiungiamo sono veramente molto molto buoni cioè non solo a livello di numeri di vendite ma anche di carrello medio considera il carrello medio di Joe Bastianich sta a 70 euro ok e come mai è un carrello più alto perché le persone ordinano per più persone o il prodotto è differente? il prezzo dei prodotti non sono alti quindi i prezzi sono anzi sono molto accessibili però le persone fanno proprio ordini di tante quantità cioè forse anche perché la tipologia di prodotto si presta bene anche per essere conservata a lungo in frigorifero ad esempio quindi possono tenerle tanti giorni e anche perché poi ci sono prodotti molto particolari e quindi magari uno una volta che ne prova uno gli viene voglia di provare di tutti anche proprio nella tipologia di offerta ma è solo hamburger che cosa? in realtà con Joe facciamo la parte di American Barbecue quindi tutte carnicotte per lunghe ore secondo la società texana quindi in un vero e proprio smoker si tratta di cotture lentissime che a casa è sostanzialmente impossibile fare e quindi sono prodotti che o compri da chi li fa e oggi chi li fa in Italia sono veramente pochi oppure non puoi non puoi mangiare ok è interessante diciamo sì io vedo carrelli più alti potenzialmente sia con questo tipo di prodotti che puoi tenerti in frigo più a lungo oppure con quei prodotti che vanno bene per mini eventi cioè sono a casa voglio fare la cena con gli amici e invito sette persone e faccio questo avete capito se ci sono prodotti particolari che vengono più usati a questo scopo? allora per esempio le empanadas vengono spesso utilizzate per cene con amici aperitivi anche la parte dei taco messicani anche vengono utilizzati poi abbiamo anche dei cannoli salati cannoli siciliani ma salati e adesso con loro stiamo sviluppando proprio una linea di prodotti che si presta molto bene alla parte di aperitivo di festa in casa tutta quella parte lì quindi per il momento principalmente sono i prodotti di bastianici quindi la parte di american barbecue le empanadas e la parte messicana che si presta cioè che abbiamo visto comunque funzionano molto da questo punto di vista mentre più la parte di primi o box un po' più gourmet da questo punto box più gourmet vengono vengono comprate principalmente per cene di di coppia o comunque in famiglia chiaro 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 ok quindi avete adesso facebook altri canali sono da provare avete provato e non hanno funzionato cosa allora vogliamo allora google non l'abbiamo mai allora avendoci un budget basso abbiamo preferito al momento concentrare tutto su facebook e vogliamo provare tiktok stiamo perché poi ne facciamo tutto internamente quindi stiamo studiando per poter iniziare a fare su tiktok abbiamo già realizzato dei contenuti insieme a un content creator che abbiamo in cui abbiamo fatto una collaborazione cioè delle collaborazioni per creare contenuti apposta per poi andare a sponsorizzare su tiktok siamo attivi su tiktok cioè pubblichiamo in maniera organica però al momento non riusciamo a trovare la chiave per poter andare virali cioè e crediamo che potrebbe essere oggi un grande strumento cioè in maniera totalmente organica che può darci una visibilità sì quello sì è una cosa che funziona molto bene su tiktok non solo diciamo non solo organico anche a pagamento e su meta ma forse su meta già lo fate però sono i user generated content per questo tipo di prodotto fare il video della coppia che si cucina a casa quello in altri business lo vizio funzionare estremamente bene visto che avete clienti così affezionati eh diciamo i nostri clienti sono affezionati ma cioè non ci fanno video cioè magari ci mandano le foto su whatsapp i video su whatsapp ma non ci taggano nelle storie o nei post su facebook ci sono delle piattaforme che ti permettono anche di fare questi video UGC quindi fondamentalmente per il vostro dimensione magari la cosa che conviene è andare direttamente da micro influencer e dirgli ti mando questa box mi fai il video me lo fai in questo modo e mi dai i diritti a dv e voi quel video lo usate per poi farci le sponsorizzate su tiktok su tiktok ci sono gli spark ads che ti permettono di fare le ad tramite il canale del creator un po' come ti dicevo prima in partnership quello secondo me sì diciamo che dovrebbe funzionare bene vedendo i risultati in altre con altre business non vedo perché non dovrebbe funzionare con voi poi è sempre un punto di domanda sì no assolutamente per google avete visto se i vostri competitor lavorano bene lato seo cioè avete visto se c'è mercato lì anche lato ads oppure ancora non avete approfondito in realtà al momento non abbiamo abbiamo visto che comunque i nostri competitor l'utilizzano e quindi sapete su cosa vedano no sinceramente no non abbiamo fatto un'analisi specifica però immagino che comunque ci possa essere un buon mercato anche lì sì fatevi fatevi la prova gratuita su un tool di seo tipo semrush e guardate i top competitor su quale keyword si rencano e su quale keyword fanno bidding di google ads per capire quanto è grande il mercato insieme a quello vi danno sia il costo per click medio che il volume il volume di solito è sottostimato perché non sono oppure vi dicono che non c'è volume ma in realtà un po' di volume c'è e lì capite appunto sia se il cpc è alto vuol dire che le persone comprano da quella da quella keyword di base e quindi lì capite intanto se c'è mercato per voi su google ads anche se come dicevi anche un po' tu diciamo tra le righe è un canale su cui bisogna investire in maniera seria per avere risultati buoni e poi l'altra cosa che capite è se ha senso cominciare a lavorare un pochettino anche lato seo è un po' long term forse per lo stato in cui siete voi però comunque ecco l'altra cosa l'altra cosa da capire è se voi potete usare i nomi dei ristoranti per rincarvi bene sulla seo anche nel piccolo lo stiamo cioè l'abbiamo provato a fare nel nostro piccolo e per esempio se tu scrivi su internet Joe Bastian cioè Joe American Barbecue dovrebbe uscirti tra le una delle prime pagine il link che ti porta al nostro alla pagina ah ok si lo vedo lo vedo bene quindi quello lo stiamo facendo un po' guarda c'è un c'è un articolo è un po' tecnico però appunto magari tuo fratello se si occupa di marketing lo lo apprezza e lo può leggere di Kevin Indig che è molto interessante si chiama tipo aggregator marketplace integrator aggregator SEO e praticamente fa tutti gli esempi di come diversi tipi di business aggregatori o integratori utilizzano la SEO per generare per generare traffico nel vostro caso c'è tanto tanto potenziale volume nel creare delle pagine che funzionino bene per esattamente come avete fatto Joe Bastianich prendere tutto quel traffico extra che che arriva dal turista che vuole prenotare anzi magari diventa pure un ah ma sai che io tra sei mesi vado a a Venezia voglio provare questo ristorante intanto ordino questo piatto per vedere per vedere com'è si si ma infatti indirettamente è successo succedono nel senso ci sono persone che magari acquistano non so dal ristorante che sta a Trastevere e poi vengono fisicamente a Roma e ci fanno a mangiare per capire se poi anche quello che hanno comprato corrisponde a quello che mangiano effettivamente si e non dovete neanche avere il ristorante tra i vostri ristoranti per fare queste pagine cioè il gioco di solito qui sta nel capire qual è l'informazione di valore che posso dare all'utente per crearci una pagina decente che abbia informazioni utili e catturare quel traffico quindi da capire che cosa potete fare perché c'è tanta competizione c'è TripAdvisor ci sono tante pagine che si rencano per quello però insomma Google TripAdvisor ogni tanto gli ha dato problemi quindi magari ci sono momenti in cui oscillano un po' e poi voi quella pagina la potete usare in due modi il primo è per reindirizzare le persone a prodotti simili il secondo è per dire al ristorante ehi guarda che ci sono 100 persone che mi hanno detto di notificarli appena tu sali sulla mia piattaforma le vogliamo servire oppure oppure no e quindi lì c'è un doppio un doppio gioco fate un export di tutti i ristoranti top sulla guida del gambero rosso ve li caricate su un csv usate un software per fare pagine programmatiche tutto sta nel capire che tipo di struttura e informazione dare alla pagina per renderla effettivamente utile sì effettivamente cioè non ce l'avevo mai ragionato in quest'ottica ma potrebbe potrebbe essere molto interessante da tutti e due punti di vista anche quella dei ristoranti assolutamente sì poi chiaramente c'è la SEO tradizionale capire appunto se magari riuscite a lavorare su attività da fare in coppia a San Valentino però insomma quello magari per lo stato in cui siete ancora è tanto lavoro tanto budget e lì ha quasi più senso andare da quei siti che fanno questo tipo di comunicazione e dirgli senti se metti la mia il mio link ti diamo una percentuale dell'acquisto avete provato qualcosa di affiliate o ancora no? in maniera strutturata non ancora abbiamo fatto qualche partnership con altre start up che si trovavano più o meno al nostro livello però non ci hanno neanche portato chissà quali risultati quindi sinceramente no in maniera strutturata no abbiamo un po' diciamo aziende che magari sono interessate a collaborare con i nostri ristoranti quindi magari scrivono a noi per dirci va creiamo una box in collaborazione mettiamo il nome di quel ristorante anche sui nostri prodotti quindi quello anche potrebbe essere un canale di business che possiamo sviluppare certo sì 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 e invece so che è riuscito questo tema nell'ultimo Twitch Tank influencer marketing come sta andando lo avete sviluppato dall'ultima volta che abbiamo parlato cosa allora in realtà noi poi lì non ne abbiamo parlato abbiamo fatto un po' di influencer marketing proprio all'inizio cioè all'inizio all'inizio anzi dedicandogli anche tanto budget cioè rispetto a a quello che avevamo a disposizione il budget effettivo che c'è esatto perché comunque da profani in tutto cioè abbiamo visto questi influencer di qua di là quindi ha detto facciamo una campagna con questi influencer settoriali del food e non hanno funzionato non hanno funzionato ma 0-0 o no 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 0-0 cioè veramente 0-0 però ci siamo resi conto a posteriori che comunque il target di influencer che avevamo individuato era sbagliato e quindi poi anche per quello cioè anche un po' per la qualità dei contenuti che sono stati fatti secondo noi però cos'era youtube tiktok instagram era instagram era instagram e quindi siamo rimasti un po' scottati da quel punto di vista e poi nel corso del tempo abbiamo fatto qualche collaborazione con micro influencer soprattutto e ti dico hanno portato più risultati micro influencer anche non retribuiti che magari abbiamo qui abbiamo magari dato anche una semplice box piuttosto che quella campagna che abbiamo fatto all'inizio quindi sicuramente è un canale che possiamo utilizzare il problema lì sta che comunque ovviamente da solio non possiamo farlo affidarci abbiamo sentito un po' di agenzie per strutturare in maniera comunque fatta bene una campagna del genere e ovviamente i budget che servono però al momento non ce li abbiamo disponibili quindi le agenzie sono fanno solo progetti di dimensioni grandi rispetto a voi e preferiscono lavorare su influencer grandi perché prendono una percentuale su quanto li paghi quindi la differenza è quella si influencer marketing è un gioco da trincea cioè devi fare uno per uno è tanto sperimentare e poi soprattutto alcuni convertono malissimo altri convertono benissimo ed è difficile da capire in anticipo cosa funziona e cosa no esatto forse gli influencer quelli più verticali su un determinato target funzionano di più per esempio abbiamo mandato delle box degli influencer dei micro influencer vegani sulla cucina vegana e comunque sono usciti i contenuti in queste settimane e comunque stanno cioè ora non so se vengono diretti perché poi in realtà non gli abbiamo dato un codice sconto affiliato e quindi abbiamo anche sbagliato lì però comunque ci hanno portato abbiamo visto comunque il traffico su quelle box sono aumentati i commenti che sotto i loro video i loro contenuti erano comunque tutti di persone interessate comunque c'erano veramente persone che chiedevano informazioni eccetera sì ah il codice sconto sì fondamentale sia per un discorso di conversione che per un discorso di tracciamento quindi quello lo farei e poi se funziona ok è tanto tempo però alla fine per voi se il costo di acquisizione sono 15 euro per un cliente mandare la box all'influencer più il lavoro che ci mettete magari sono 100 euro già se riescono a portarvi 8, 9, 10 clienti è meno scalabile come canale però c'è anche tutto il discorso di awareness che non hai con le ad quindi ci ragionerei lato youtube quello che ti posso quello che posso pensare è su youtube il margine che avete effettivamente è un po' basso per pensare di lavorare bene con macro influencer secondo me cioè a meno che non abbiano un tasso di conversione molto alto e poi soprattutto quelli col target a cui ambite voi tendono avere un cpm alto cioè i cosa mangiamo oggi che forse sono i più grandi che mi tengono in mente che sono in target con voi sanno che hanno un pubblico che spende un sacco di soldi e comunque un pubblico che ha l'età più o meno che avete in target voi che vuole fare quello che proponete voi io lì comunque un test lo farei a scrivergli e dire guardate noi facciamo questo secondo noi siamo super in target vogliamo lavorare con voi e magari magari si rendono disponibili a lavorare o come affiliate o secondo me lì quello che dovete fargli capire è guardate qui c'è un'opportunità enorme quindi se voi se la vostra promozione è vincente vinciamo tutte e due tanto se non funziona come dire ce ne andiamo a casa tutti e due no harm no foul e si va avanti è difficile da vendere perché vogliono sempre tutto flat fee però a volte succede c'è il Logan Paul che si fa la sua bevanda energetica e la porta avanti è vero cioè nel senso ci è capitato anche con alcuni influencer che magari su Instagram parlo che magari abbiamo contattato così gli abbiamo detto noi facciamo questo ci piacerebbe e ci hanno pubblicato ovviamente non ci hanno fatto un contenuto chissà cosa però comunque anche quel piccolo contenuto ci ha portato ci ha portato dei digitali sì 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 no appunto secondo me lì ci sono due tipi di influencer questi micro che potete fare un po' a scala magari potete anche pensare di mettere su un mini programma di affiliazione dove gli dite ogni box che vendete fate 20-30 euro diventa una specie di prozis 2.0 con target diverso però poi secondo me ci possono essere anche proprio gli ambassador gli ambassador che sono influencer da un milione di follower su Instagram o appunto tipo cosa mangiamo oggi che adesso non so ma faranno qualche centinaia di migliaia di views a video sui ristoranti stellati però lì il discorso diventa diventa quasi guarda adesso la sparo però potrebbe anche essere ti diamo equity nell'azienda noi crediamo talmente tanto in te come potenziale ambassador se la se la promozione va bene vediamo che c'è un buon fit cominciamo a fare video ogni mese e per ogni video c'è un una percentuale di equity che ti diamo c'era un influencer che portava tantissimi tantissimi iscritti è stato uno dei principali canali di acquisizione all'inizio non so se questa cosa la potevo dire vabbè magari poi Ilaria metterà un bip e quindi è un po' tricky da fare non sono un fan di fare un cap table complicato però come ultima arma si può usare questo altrimenti chiedite semplicemente guardate vi diamo tutto quello che guadagniamo dalle box però chiaramente quello che voi guadagnate è lato vostro e tutta l'awareness che vi danno e la fiducia che si va a creare ai consumatori e gli ordini ricorrenti futuri perché magari è gente che vi ordina una volta ogni tre mesi esatto infatti sicuramente lo prendo come consiglio quello di provare questa strada sicuramente siamo già fuori tempo quindi poi in caso fermami ma qual è il tasso di conversione del sito questo te lo do mi trovi impreparato ok ah figurativi che è una cosa importantissima che ti ho a mamma comunque perché questo anche diciamo che comunque all'inizio era molto basso la cosa che avevamo era il fatto che soprattutto appena iniziato il 2022 ma a buona parte anche il 2023 il sito era lento baggava molto oggi l'abbiamo migliorato molto rispetto a come era prima ovviamente si può fare ancora molto meglio però è aumentato sì perché quello chiaramente quando cominci a fare tante ads e tanti influencer fa la differenza cioè aumentare il conversion rate dell'1% ti sblocca canali che prima non erano non erano infatti la cosa che ci ha frenato anche all'inizio è quella di investire in pubblicità in ads e anche quello il fatto che comunque vedevamo il sito noi stessi prima persona che non andava cioè nel senso che si bloccava e non ti faceva cioè per acquistare ci mettevi tanto era lento quindi aveva poco senso investire in pubblicità che poi comunque portavamo gente sul sito che magari usciva perché la pagina ci metteva 30 secondi a caricarsi sì 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 assolutamente e ah ok questo sto dando un'occhiata beh diciamo ci sono tanti elementi tanti elementi a schermo che magari possono distogliere un po' l'attenzione però lì si tratta di vedere i numeri fare un po' di analisi di siero sto vedendo non vedo tool di heatmap installati sul sito dovrebbe esserci in realtà clarity clarity sì clarity eccolo qua sì sì clarity ok diciamo manchiamo un po' da questo punto di vista sia di analisi strettamente del del sito dobbiamo migliorare le ad rimandano a una pagina prodotto o all'home page dipende alcune rimandano direttamente alle pagine prodotto alcune rimandano alle pagine del ristorante quindi se sono magari specifiche per un determinato ristorante o tipologia di cucina poche sinceramente credo rimandino alla home page ok beh ha senso tendenzialmente l'home page è quella che che porta di meno adesso è da un po' che non lavoro con e-commerce non ho più i benchmark che prima sapevo a memoria però ecco di base dopo diciamo dopo tutti gli step da home page pagina categoria pagina prodotto poi la pagina prodotto almeno un 3% di tasso di conversione di solito deve arrivarci se volete mantenere un un ROAS buono quello è importante si può fare la differenza lo sto vedendo il giorno di spedizione al momento lo chiedete nella pagina prodotto ok quindi se io metto tipo il panettone per il 13 poi mi vado a prendere ma sta tenendo fame vado a prendere il box a matriciana e me lo metto per il 21 ah non fate spedizione il fine settimana eh no noi spediamo dal lunedì al giovedì però i prodotti vanno educate le persone quindi molto spesso quando le persone acquistano ci scrivono in chat ci chiedono ma posso conservare i prodotti fino al al weekend ovviamente tutti i prodotti se acquistati nella settimana arrivano al al weekend ma riuscite riuscite a a nascondere un po' questa cosa nel senso non dico di mentire però alla fine cosa è che interessa alla persona è più o meno quando ricevono il prodotto quindi invece di chiedere quando vuoi che parta la spedizione chiedergli in che giorno vuoi avere questa questo prodotto a casa e poi voi in base a quello organizzate la spedizione anche sapendo che il prodotto magari per tre giorni può durare in frigo quella è un'opzione oppure no il problema sta nel fatto che comunque noi oggi al 95% spediamo consegniamo in 24 ore quindi da quando parte entro le 24 ore quindi però non abbiamo la sicurezza al 100% che la box viene consegnata in quel determinato giorno quindi rischiamo se noi diamo cioè chiediamo alle persone quando vuoi riceverlo magari le persone si aspettano che la box arrivi il giovedì poi per un ritardo la box slitta al venerdì però voi potete programmarla per farla partire per dire lunedì o martedì sì però è un lavoro di back end che fate voi no? sì però poi rischiamo che ad esempio arrivi il mercoledì quindi magari la persona ci può scrivere e dirci ma io la volevo giovedì perché la devo consumare sabato eh sì sì no quello ok però appunto se tu gli chiedi cioè lui dice la voglio consumare giovedì è solo è un gioco di trade off sto pensando se non è meglio educarli per dire guarda questo può stare può stare in figo tre giorni quindi tu mi dici quando lo vuoi consumare e io te lo faccio arrivare massimo tre giorni prima minimo il giorno tipo il giorno stesso per dire il giorno prima piuttosto che chiedergli quando vuoi che parta la spedizione perché magari io voglio consumarlo venerdì vedo spedizione 24 ore lo metto per giovedì e poi mi arriva comunque ritardo alla fine è lo stesso problema potenzialmente la differenza è che così posso selezionarmi anche venerdì sabato e domenica perché magari le persone droppano anche perché vedono che non gli può arrivare il pacco il sabato effettivamente cioè non ci ho mai pensato su clarity forse si può vedere mettere su un funnel lo sto no dico non ci ho mai ragionato in questo punto di vista da questo punto di vista quindi sul chiedere quando vuoi consumare la box potrebbe sicuramente e a quel punto potremmo sì cioè ci sto ragionando proprio ora però potrebbe sicuramente essere un un modo me lo segno perché potremmo assolutamente testarlo e magari aggiungere nella pagina prodotto anche questa informazione è diciamo più evidente quanto tempo dura il prodotto sì diciamo lo indichiamo però effettivamente forse non è ancora preparazione e conversione sì quello che quando lavoravo su diciamo con aggregatore di e-commerce quello che avevamo visto su tutti quello che avevo messo come SOP per tutti i brand era se ci sono domande che vengono fatte su base ricorre le top tre domande dobbiamo provare a rispondere nella descrizione del prodotto e idealmente above the fold quindi senza che le persone debbano scorrere giù le tre obiezioni principali dobbiamo già address dentro quella pagina lì poi ogni brand è diverso però di base se sapete che la gente chiede provarla a mettere più in risalto aiuta perché appunto è uno step mentale in meno che devono fare loro per per completare l'acquisto e poi l'altra cosa che ci si può chiedere è se programma la spedizione non sia meglio nella pagina prodotto o nel check out qui dipende dai numeri il problema che vedo è che penso sia difficile a livello tecnico da testare come cosa quindi tenetevelo come idea però insomma lasciatelo nel backlog perché non spenderci troppo tempo di sviluppo potrebbe essere eh sì l'avevamo pensato questa cosa no ti dico l'avevamo pensato il problema sì è quello cioè già metterlo comunque noi operiamo su wordpress e wordpress non abbiamo trovato il modo per poter mettere un calendario così tramite il login quindi l'abbiamo comunque dovuto sviluppare e già svilupparlo e farlo funzionare correttamente perché poi magari se sballa magari dà la possibilità alle persone di ordinare i giorni in cui i ristoranti non spediscono diventa un po' un casino è stato abbastanza difficile quindi ci abbiamo pensato sul cambiarli posto però al momento non l'abbiamo ancora mai testato magari non domani se ci avremo una forza maggiore anche di di mano d'opera di sviluppo possiamo sicuramente farlo sì comunque questo penso che questo diventi più un è un incremento marginale non è un incremento che vi cambia il business al momento se dovete mettere tante risorse deve essere un qualcosa che potenzialmente fa tanto la differenza quindi ci stanno non metterlo come priorità però la cosa che noto è che ci sono poche recensioni per i piatti cioè voi avete tante recensioni però per i piatti molto spesso non ci sono quello ecco magari spostare alcune delle recensioni sul servizio sul piatto e cominciare a mostrare anche nella pagina prodotto questo piatto a 5 stelle o questo ristorante se vedete che ha più senso a 5 stelle anche potrebbe potrebbe aiutare eh sì diciamo che oggi il fatto è che comunque le recensioni quelle sulle pagine prodotto vengono gestite da Wordpress e oggi le persone recensiscono tutte su Trustpilot quindi abbiamo tantissime recensioni su Trustpilot poche dirette sul prodotto ma più sul servizio cioè nel senso quando arriva il link recensiscono direttamente il servizio e cioè metterle sul sul prodotto potrebbe funzionare il problema è che oggi Trustpilot cioè la versione pro di Trustpilot costa cioè costa veramente tanto sì lì forse cioè intanto è comunque buono avere Trustpilot perché poi le persone magari vanno a cercare il vostro servizio però visto che avete anche già una buona quantità di recensioni voi usate MailChimp per le email vedo giusto? sì stavo vedendo qua ma avete un botto di roba installata comunque eh lo so che fai i suoi che fai eh perché un po' di plug-in c'erano cioè si sono installati da di default esatto sta ad andare lì e magari disinstallare tutti quelli che non si utilizzano effettivamente ma avrebbe fatto sì un pochettino comunque sia poi a parte questo magari quello che potete fare è neanche usare Trustpilot usare un sistema terzo di Wordpress per recensioni di prodotti ehm mandare le mail alle persone e dirgli ah hai ordinato questo eh che voto gli dai e magari anche non so quanto è l'effetto degli sconti sul vostro servizio se per esempio il 10 euro di sconto della newsletter funziona però dirgli se fai un se fai una recensione ci dici tre parole su come ti è sembrato ti diamo anche 10 euro di sconto sul prossimo ordine o 5 euro lì bisogna stare attenti chiaramente perché non non puoi diluire troppo il sia il vostro margine che anche il valore diciamo della box eh però non lo vedo tanto questo rischio speciale inizio secondo me ha più senso creare questa abitudine di lasciare recensioni ehm e anche poi potenzialmente aumentare la frequenza degli ordini delle persone perché insomma si no no questo può diventare un'abitudine questo servizio quindi no no effettivamente ci ci devo allavorare da questo punto di vista assolutamente hai perfettamente ragione infatti dobbiamo bene perfetto adesso so che ti sto rubando più tempo del dovuto ehm magari in 5 minuti se ce l'hai volevo capire un attimo al discorso di fundraising ma ci andavi qualcosa prima della della chiamata adesso di quello che che vuoi dire però qual è il vostro obiettivo al momento proprio a livello di di azienda di fundraising cosa cosa volete arrivare a fare allora noi abbiamo siamo totalmente autofinanziati ad oggi abbiamo preso due bandi pubblici nel 2023 verso era agosto agosto 2023 e quindi poi quelli ci hanno permesso di entrare ci ha fatto entrare un po' di liquidità e abbiamo iniziato a fare adifuso sostanzialmente grazie a quello e ovviamente i bandi pubblici cioè i bandi che abbiamo preso non sono non sono chissà quanto grandi quindi abbiamo pianificato di fare un round un primo round di investimento un round presid entro l'estate e come ti dicevo prima inizialmente siamo partiti con una campagna cioè con un round un po' più grande circa 300 300 mila euro poi comunque dalle prime da diverse da dei ragionamenti che abbiamo fatto anche internamente abbiamo pensato di strutturare magari la campagna con un round leggermente inferiore chiuderlo però prima cioè rivedere anche un po' i piani finanziari e sviluppare poi un round più grande prima rispetto a quanto ci immaginavamo a gennaio questa è un po' la strategia che vogliamo portare avanti a livello di investitori stiamo sentendo principalmente business angel privati cioè business angel singoli o comunque gruppi di business angel per i fondi siamo ancora troppo troppo piccoli abbiamo fatto qualche call con qualche fondo perché magari ci hanno fatto delle intro e comunque il servizio con i suoi dubbi relativi sempre al modello magari ha la marginalità un po' troppo bassa però il servizio intrigava il fatto che comunque andava a raggiungere persone poco considerate oggi dai classici sistemi di delivery ad esempio quindi interessava quello però oggi siamo sì perché poi non l'abbiamo detto ma il vostro target principale sono persone che vivono fuori dalle città metropolitane fondamentalmente la maggior parte oggi sono sostanzialmente quelle anche se ad esempio per incentivare di più l'acquisto nelle città metropolitane stiamo attivando su Roma e su Milano la consegna in giornata quindi ad esempio i ristoranti di Roma ti consegna direttamente in giornata la box o i ristoranti di Milano ti consegna indirettamente in giornata la box su tutto il perimato della città sì diciamo che capisco la necessità di liquidità la cosa che ti accennavo anche prima che mi mette sempre un po' spavento è in Italia i round sono sempre molto piccoli a livello di valutazione a livello di soldi che uno riesce a tirar su voi avete un business che in realtà sta quasi in piedi da solo cioè dovesse arrivarvi a livello di unit economics dico con le ad se fate costo di acquisizione 15 euro che equivale a un ordine no? più o meno quello che intendevi quando ricevi 15 euro voi praticamente su ogni ordine perdete 4 euro 4 euro per acquisire un cliente che al 35% riacquista non siamo lontani da un business che si può sostenere quindi sì è un peccato diluire tanto l'equity quando in realtà potrebbe non servirvi a breve ecco però appunto sì è sempre un equilibrio delicato da mantenere la cosa che ho visto io sulla mia pelle ma anche parlando con altri è che non è detto che lo sforzo per fare un fundraising di 100.000 o 300.000 sia così diverso non è scontata questa cosa diciamo che a volte obiettivi che sono 10 volte più grandi richiedono due volte l'effort però sì magari quando lavori con Angel ti permette di chiudere meno Angel sì però allo stesso tempo è molto più facile chiudere persone quando tu hai già parted round committed da qualcuno assolutamente quindi non lo so poi insomma comunque cosa pensate di usare safe o direttamente equity inizialmente eravamo partiti direttamente con un equity adesso abbiamo ristrutturato tutta la campagna con un safe sostanzialmente quindi non tutti cioè almeno ad oggi non tutti i business lo vedono in maniera positiva questa cosa alcuni quando gli dici che stai raccogliendo con un safe ti dicono no guarda inutile che facciamo una collero non siamo interessati però altri invece sono lo apprezzano la cosa sì diciamo è l'approccio più standard ormai sicuramente non siete la scale up tech però insomma alla fine la potenzialità c'è secondo me ha senso provare a rimanere con questo tipo di struttura e poi magari adesso non so com'è il sistema dei business angel in italia magari quelli che sono meno aperti a questo tipo di round sono anche quelli che sono meno avvezzi al mondo startup e quelli che poi vi darebbero più problemi dopo quindi potrebbe essere un filtro iniziale da utilizzare infatti sì anche io la penso un po' la penso un po' così quindi sono d'accordo con te è importante togliersi mal di testa anche dagli investitori perché succede molto spesso diciamo non ho esperienza perché comunque è la mia prima raccolta che sto tentando di fare quindi non ho esperienza magari da rapporti diretti poi con investitori nello sviluppo del business eccetera però immagino comunque trovare le persone giuste oggi è fondamentale cioè trovare magari è un po' come la ricerca del lavoro anche nel senso che se tu non se anche tu vuoi scegliere non sono solo loro a scegliere te e avere quell'atteggiamento secondo me ti aiuta anche a raccogliere di più proprio come quando vai a un colloquio di lavoro e si vede che anche tu stai facendo le domande per capire se vuoi lavorare in quell'azienda ti rende automaticamente più attraente come atteggiamento quindi secondo me ti conviene continuare su quella strada lì esatto cioè continuerò sicuramente così da quel punto di vista assolutamente bene bene perfetto quindi mi raccomando non diluirevi troppo perché insomma le unità ci sono secondo me l'economia c'è bisogna solo un po' di cash per spingerlo avanti però insomma sarebbe un peccato diluirsi troppo a questo punto perché poi magari funziona tutto bene e vi cappate un po' al prossimo round infatti il fatto per cui abbiamo cambiato dall'equity diretto al safe è stato proprio quello comunque abbiamo visto che funziona il business però ovviamente le metriche non erano quelle altissime che magari potevi fare una valutazione di 2-3 milioni subito e quindi abbiamo detto cambiamo facciamo un safe e poi il più senso sicuramente oggi bene perfetto allora Davide io ti ringrazio tantissimo sei stato super trasparente magari poi tra qualche mese faremo un follow up per vedere come è andata assolutamente ti ringrazio ancora quindi le persone possono provare il vostro prodotto a aristoboxitalia.com le invitiamo a provare chissà magari anch'io diventerò uno dei micro influencer con il codice sconto del se ci sarà un codice sconto lo troverete in descrizione di queste organizziamo e te lo te lo passo sicuramente va bene perfetto allora grazie ancora alla prossima a te grazie mille ciao grazie mille 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 grazie mille